oppure oddio oddio rete 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 ha segnato Perruccio o Perruccio Gabriele Perruccio ha segnato Perruccio appena entrato ha realizzato il gol del bandaggio 2 a 1 a favore della Virtus Castelfrentano ha segnato ha segnato Nicola Perrucci ha partito dalla panchina appena entrato dopo 5 minuti Scarsi ha realizzato il gol del bandaggio momentaneo è entrato anche Federico con il numero 14 è entrato con il numero 16 anche Michele cambia tutta cambia tutta ecco bravo bravo grazie a tutti